Un incendio è divampato nel tardo pomeriggio attorno alle 17 in galleria Tito Livio nel centro di Padova. Le fiamme partite dalla cucina di un bar nella galleria hanno creato una densa nube che ha presto avvolto la zona. Sul posto sono subito intervenuti tra equipaggi dei vigili del fuoco e le forze dell'ordine. Evacuata la galleria, le aule studio e fermato il tram per consentire l'intervento dei pompieri. Una dipendente è stata trasportata al pronto soccorso per precauzione ma ad eccezione dei danni immateriali nessuno è rimasto ferito. I pompieri stanno ora indagando sulle cause dell'incendio e per il momento il bar rimarrà chiuso. La situazione è tornata alla normalità dopo circa un'ora. Svice Marciane News, Padova. Grazie.